Musica Questa è la mostra per i 75 anni di Superman con tutti i costumi originali dei film e della serie insomma tutte le incarnazioni di Superman finora fate un'occhiata qua questo per esempio è Superman 3 adesso rapidamente mi muovo perché sennò questo qua è Superman Returns se non sbaglio credo proprio di sì ah no, sì, Superman di Brandon Ruff qui ci sono quelli delle serie televisive Lois e Clark per esempio qui dietro c'è Smallville vedete? e qua i costumi dell'uomo d'acciaio Harry Cavill il suo costume questo non ricordo Harry Cavill nella sequenza in cui sogno vedete? e poi eccoci qua finalmente il costume dell'uomo d'acciaio in persona c'è un po' di rumore di fondo scusate e poi eccoci qua e poi eccoci qua in cui c'è un imi